Allora, buongiorno a tutti, bentrovati a quest'altra puntata dei nostri VLA Digital Focus. Ricordo che sono disponibili i precedenti incontri sul canale YouTube dell'Unione Industriale, quindi se voleste andare a dare un'occhiata anche alle puntate precedenti, lo potrete fare tranquillamente in qualunque momento. Questa sera abbiamo come ospite Giorgio Minguzzi, che è un esperto di CRM. Ciao a tutti. Giorgio, ciao e grazie di essere qua con noi. Esperto di CRM, consulente per imprese nel settore del digitale, dell'innovazione digitale. Poi ti lascerò la parola e ti darò anche modo di presentarti in modo più completo. Io ci tenevo intanto a dare ancora due informazioni prima di iniziare. La prima è che il prossimo appuntamento sarà il 28 di marzo, con il VLA Digital Focus. Avremo come ospite il dottor Lisha, che ci parlerà del mondo B2B e del ridisegno delle filiere. Questo sicuramente sarà un appuntamento di cui riceverete remind e ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni attraverso newsletter. E volevo anche darvi come, in anteprima, perché questo non l'abbiamo ancora comunicato, ma la data è fissata, per il prossimo VLA Digital Summit, il giorno 10 maggio, sempre a VLA ovviamente, l'appuntamento sarà nel pomeriggio. Quindi ci saranno ulteriori dettagli, è la seconda edizione, torniamo chiaramente a rivederci dopo questi appuntamenti digitali e speriamo di potervi vedere numerosi. Ora, Giorgio, ti do la parola, a te lo spazio per una tua relazione introduttiva. Ricordo a tutti che chiunque volesse fare delle domande o sollevare dei dubbi, delle richieste di approfondimento a Giorgio, lo può fare attraverso la nostra chat, saremo poi io e Michele, che qua con me saluto, a riprenderle e a porle al nostro relatore al termine del suo intervento. Molto bene, adesso provo a condividere le slide con voi, vediamo se sono capace. Vediamo adesso, penso di sì, no? C'è il mio faccione? Vai pure. Ho molte cose da dirvi, quindi andrò molto veloce, anche perché è un tema carico di un sacco di argomenti e sotto argomenti e quindi tocca correre per restare nel tempo che abbiamo. Di cosa parliamo oggi? Iniziamo un viaggio all'interno del CRM, vedremo praticamente due cose, che cos'è il CRM e come avere successo con il CRM. Visto che è una delle soluzioni che può vantare il maggior numero di fallimenti in azienda, di progetti falliti, è bene guardare anche non solo come si compra, perché pagare e poi andare male lo sanno fare tutti, ma anche come avere successo. Di cosa non parleremo? Io non vi devo convincere a comprare nulla, non sponsorizzo nessun CRM, ho le mie preferenze, ma non ne rivendo nessuno. In gergo tecnico sono un consulente CRM aggnostic, non vendo CRM, non sono legato a nessun marchio, non cercherò di convincervi che il CRM sia il rimedio a tutti i vostri mali, i mali della vostra azienda, assolutamente no, e non sarò in alcun modo manipolativo, perché l'esperienza col CRM è un racconto di quello che ho fatto io quando ero dall'altra parte, quando ero in azienda. Io lo so che prima o poi qualcuno me lo chiederà qual è il miglior CRM, ma è un interrogativo amletico, cioè dipende da che cosa volete farci, dipende da chi siete voi e in che contesto operate. Quindi arriviamo anche a questo aspetto, ma tra un attimo. La prima cosa che mi viene da dirvi è ma perché questo qui viene a parlarci oggi di CRM? Beh, io ho iniziato con il CRM, era il 2002, se poi volete andate a guardare che cosa sto facendo adesso, ma era il 2002, lavoravo in un'azienda che faceva software e rivendeva prodotti di sicurezza informatica e aveva sviluppato il primo CRM. Poi con un percorso normale di carriera ho cambiato azienda, sono andato in una società che produceva queste cose enormi che erano gli impianti per la produzione d'asfalto che avevano dei cicli di vendita di oltre un anno, di oltre due anni, anche a volte cinque e bisognava tenere traccia di tutto, per cui cercavano qualche d'uno che portasse al loro interno delle regole, un po' di struttura e l'utilizzo del CRM. Questo ha fatto nascere probabilmente ancora oggi la più grande commessa per Sugar CRM, il più grande CRM in Europa perché dal nostro headquarter gestivamo quattro continenti, diverse centinaia di utenti, eccetera, in Cina, in America Latina, nel Medio Oriente. Quindi, diciamo, ho imparato sulla mia pelle tutti i problemi perché io non solo avevo quelli italiani ma avevo quelli di tutte le altre nazioni con le loro peculiarità e le loro caratteristiche e quindi mi sono dovuto un po' arrangiare. Non è che ci sono manuali, non c'è uno studio, un'università per il CRM. Ho dovuto imparare, diciamo, sulla mia pelle. Quindi, cerchiamo prima di tutto di costruire le basi e poi di andare a vedere come si fanno tutte le altre cose. E la prima cosa che c'è da considerare è l'evoluzione della vendita. Parto con un fatto personale, il mio trisnonno era un sensale. Ora, a me piacerebbe chiedere quanti di voi sanno che cos'è un sensale. Magari scrivetelo nella chat perché dopo ci facciamo quattro risate. Fondamentalmente ero un mediatore e nell'Ottocento c'era anche un po' di magia in questo. Quando si comprava una mucca, un maiale, così si faceva, si stringeva le mani, c'era lo sputo, cioè c'era una sorta di ritualità. E chiaramente per comprare bene ci si rivolgeva un mediatore. Chiaramente il mediatore ogni tanto prendeva le botte perché si metteva d'accordo con uno dei due e questo faceva sì che qualcuno fosse un po' scontento. Ma pensate com'è cambiata la vendita che dopo i mediatori hanno cominciato a dire beh, ma se io prendo il mio bene, il mio servizio e vado porta a porta, chissà quanti clienti in più faccio, così non ho bisogno del mediatore. Poi, a un certo punto era faticoso andare in giro. Cominciamo a telefonargli. Ma sì, ci facciamo annunciare al telefono perché stare ad aspettare là dal cliente facendo porta a porta, sai, lui potrebbe essere impegnato. Poi siamo arrivati al fatto che tutti chiamano e ci sono le segretarie, ci sono i filtri, no? Benissimo. Allora abbiamo detto, bene, io non mi piace ricevere la porta in faccia o sentire la segretaria che mi dice di no. Gli mando un'email. Gli mando un'email e chiaramente se è passato come le telefonate le nostre email sono ignorate da tutti. Sembra che nessuno abbia veramente più voglia di ascoltare quello che abbiamo da dirgli e le cose anche utili che abbiamo da proporgli e per questo cominciamo a vedere un declino delle nostre vendite e di solito diamo sempre la colpa alla crisi economica. Io da quando ho iniziato a lavorare ci sono state varie bolle, la bolla della dot com, la bolla dei subprime, cioè alla fine c'è sempre una scusa, no? per un calo di fatturato. In realtà questa volta il problema è molto più profondo perché è cambiata radicalmente la vendita. Si è passata da una vendita fatta dal venditore, tipicamente voi una volta volevate più fatturato prendevate sul mercato un venditore col suo pacchetto clienti, il suo portfoglio clienti. Adesso non è più tanto così. Questa è l'era del cliente. Qual è la differenza fondamentale? Beh, il cliente è spesso più preparato di noi e dei nostri venditori. Il cliente è evoluto digitalmente perché sa cosa vuole, lo cerca online, lo trova oppure trova chi lo può aiutare a scegliere online, è connesso sui social, quindi vede recensioni, oggi il cliente sa dove ci sono le conversazioni, è connesso fondamentalmente H24 perché dal telefonino può lavorare il sabato, la domenica sotto l'ombrellone, eccetera, e vuole risposte praticamente immediate perché è abituato ad avere tutto a portata di click, no? E questo cosa ha fatto sì? Ha fatto sì che il modello vecchio andasse in crisi. Nemmeno noi, se ci pensiamo, uno dice no, ma nella mia azienda non è così, no, no, ma per la mia vita io non faccio così. In realtà, se voi, adesso io vi vorrei chiedere quanti di voi hanno negli ultimi due anni comprato un'auto e se l'avete guardata voi per vostro conto online configurandovi e poi andando dal concessionario a chiedere solo lo sconto. Ecco, almeno io ho fatto così e tanti miei amici hanno fatto lo stesso. Quindi vedete quanto è cambiata la vendita. Mio padre sarebbe andato 30 anni fa dal concessionario gli avrebbe detto guarda, io ho una famiglia, vorrei una station wagon, cosa mi proponi? Oggi non succede più così, tu vai là con una configurazione fatta e la vai a negoziare. C'è pochissimo spazio, no? Difatti, ci sono qui alcune ricerche che dicono che ben l'82% degli acquirenti va a vedersi dei contenuti e ne vede almeno 5 prima di comprare contenuti online, quindi in questo momento storico non è che possiamo stare a dire ah ma adesso con me non funziona, io mi oppongo. Ormai questi cambiamenti ci sono e i protagonisti che gestiscono il rapporto col cliente non sono più soltanto i venditori perché il cliente se fa una telefonata nel post vendita ed è scontento ci mette due nanosecondi a mandarvi a quel paese, se chiama alla centralinista la centralinista non risponde a dovere o benissimo avere una sensazione negativa nei confronti della vostra azienda, in pratica qualsiasi touch point cioè punto di contatto con l'azienda cambia la sensazione che ha il cliente su di voi, quindi non è più solo ah io vendo tramite il venditore e no amici miei voi vendete anche tramite l'ultima ruota del carro della vostra azienda. Se diamo un'occhiata come è cambiata la vendita nel tempo e qui è un asse temporale chiaramente spannometrica noi eravamo grandi mercanti pensate a Venezia pensate a Genova poi è arrivata la rivoluzione industriale abbiamo cominciato a produrre a produrre tantissimo e l'unico obiettivo che abbiamo avuto sino a qualche anno fa era l'efficientamento di questa grande produttività tant'è vero che poi sono nate tutte le robe di massa i mass media i supermercati eccetera a un certo punto oggi riscopriamo che alla fine cosa vende davvero dopo questa sbornia di efficientamento sono le relazioni e quindi cominciamo a dire bene ma io come la curo in un mondo con mille touch point la relazione col mio cliente ecco perché ci serve un CRM quindi entriamo nel vivo ma era importante farvi questa premessa anche se un po' lunga perché se no non capiamo perché ci serve un software per fare quello che si è sempre fatto nello stesso modo ora la parola CRM è un acronimo e ha tante interpretazioni io scommetto che se vado dieci aziende che ce l'hanno dicono dieci cose diverse è il customer relationship manager oppure management a seconda come lo vogliate declinare ed è un sistema per migliorare la relazione con i vostri clienti il CRM però non è un software è un modo di essere dell'azienda è la realtà che c'è tra voi e il vostro cliente e tutti i punti di contatto che sono tra voi e il vostro cliente e come si sviluppa questa relazione quindi non è un software noi pensiamo che sia un software perché in pratica ci hanno detto così che è quello che si compra ma in realtà il CRM lato software è solo uno strumento per mettere ordine in una cosa che c'è già perché ve lo dico che se non siete falliti e avete chiuso l'azienda voi avete un CRM ed è il vostro personale modo di gestire la relazione con il cliente può non essere efficiente ok ma ce l'avete quindi voi avete già un CRM quindi a questo punto qual è il problema è una questione di fiducia perché io devo capire qual è il CRM giusto per me quale si adatta meglio a me nella condizione che sono io e quale mi aiuta meglio a gestire i miei processi che sono specifici più o meno per ogni azienda è chiaro che in questo caso l'azienda deve anche mettere qualcosa sul tavolo non sto parlando di ricompense per chi usa eccetera sto dicendo che la trasparenza che si chiede agli utenti del CRM anche l'azienda la deve mettere sul tavolo fra un attimo approfondiamo anche questo questo argomento ovviamente il CRM non è il marketing di chi vende software CRM questo è molto importante perché il marketing tende a diciamo a semplificare tutto voi troverete qualunque CRM dice che è facile da usare è il migliore è semplicissimo ed è quello che gli utenti vogliono proprio usare neanche senza convincerli proprio non è così ogni CRM ha la sua strada ma guardare al marketing del CRM è dannosissimo perché vi fa prendere fischi per fiaschi un altro punto importante che poi genera frustrazione nelle aziende è che le aziende non hanno proprio un'idea di che cosa aspettarsi dal CRM molte volte comprano un CRM perché in confindustria qualcuno l'ha comprato hanno sentito anche noi ci va il CRM oppure perché hanno assunto un direttore commerciale o un commerciale che gli dice ma qua non c'è neanche il CRM però non hanno veramente idea di cosa aspettarsi quali sono i vantaggi quali sono quindi questi vantaggi quali obiettivi ha un CRM beh ha le vendite quindi migliorare le performance di vendita migliorare l'assistenza ai clienti ha una grossa funzione di analisi dei risultati che sennò gestireste di pancia e non in maniera diciamo rigorosa con i dati ha la possibilità di mantenere della documentazione serve a fare PR perché è importante anche questo serve per migliorare la comunicazione è ovviamente anche un database dei clienti e serve per aumentare la customer loyalty in ogni installazione che ho visto il CRM tendenzialmente porta anche fuori il peggio che c'è in un'azienda il meglio e il peggio perché molte volte non si è in grado di comunicare correttamente che cosa si sta facendo quando si installa un progetto CRM in azienda il CRM funziona tutte le volte che c'è una visione chiara come tutte le volte che io prendo la macchina e so dove voglio andare se non so bene dove voglio andare consumo una gran benzina e poi mi viene un gran nervoso i passeggeri che ho con me cominciano ad innervosirsi e chiaramente questo non funziona il CRM porta con sé anche un miraggio che è quello del progetto chiave in mano il CRM io non l'ho mai visto un progetto che inizia e si chiude nei tempi che aveva previsto il vendor o chi ce l'ha venduto CRM è un processo e come tutti i processi è senza fine può finire una fase che è quella dell'installazione del software e diciamo la formazione dei dipendenti che lo devono usare ma non è un progetto cotto mangiato da fare entro l'estate eccetera non è neanche una pilola magica la red pill che migliorerà i venditori no perché se abbiamo delle scarpe poveretti loro faranno quel che potranno ma saranno sempre così in difficoltà e come vi dicevo prima il marketing del vendor fa il suo lavoro come dice la cantante Giorgia ognuno di noi mette la merce più invitante sul bancone però nessuno ti dice che in realtà bisogna bisogna dare quando uno chiede dare trasparenza dare fiducia alle proprie persone quindi sta un po' all'azienda la prima mossa quando installa un CRM non sta tanto al vendor che si è scelto sta a noi per primi vi faccio un esempio se io quando faccio una riunione commerciale continuo a chiedere un Excel con i dati della pipeline e del forecast dei venditori e non uso lo strumento del CRM in pratica io sto delegittimando l'acquisto che ho fatto e quindi faccio molta fatica a farlo usare perché se non lo chiedo mostro ai miei colleghi che sono io il primo che non ci credo bene o male non c'è grande interesse nel nel fare questo tipo di attività dopo chiaramente il CRM ha dei vantaggi ed è innegabile questo ma bisogna anche dire la verità perché molte volte questi vantaggi sono distrutti dalla leadership dell'azienda il CRM è principalmente un problema di leadership aziendale perché molte volte i primi a non interessarsi di questo progetto sono proprio i proprietari dell'azienda o i dirigenti massimi dell'azienda come fare quindi a far girare bene il CRM beh impostiamo un lavoro in modo da non avere brutte sorprese la prima cosa importante è avere un team che si occupa del CRM non è una magica persona non è una persona da sola non è l'iti manager che come il Cireneo si carica della croce di Gesù e la porta avanti no assolutamente no è un team di persone e questo team non lo si dà da governare a chi ha tanto tempo libero cioè deve essere una persona che sa quello che deve fare sa bene gli obiettivi che deve avere io ho visto tante volte affidare il progetto CRM a gente che aveva tempo e non si sapeva bene che cavolo fargli fare sbagliatissimo innanzitutto in questo team una sorta di compagnia dell'anello a me piace chiamarla sono anche Gandalf bisogna avere uno sponsor nel board dell'azienda qualcuno che decide che dia sostegno politico all'interno della società un signor manager a cui riportare il project manager che sarà quello che ha la responsabilità della delivery del progetto un campione di utenti rappresentativo non dico di mettere tutti dentro ma un campione rappresentativo qualcuno che supera gli effetti di questo dell'uso del CRM è molto importante che ci sia che non vuol dire che deve fare il data entry ma magari è uno dell'R&D che magari riceve delle informazioni sulle trattative perse per così magari vi fa aggiungere una feature al prodotto che mancava il più criticone dell'azienda io me lo terrei sempre vicino perché come dice Sun Tzu è meglio i nemici tenerli vicini e poi il fornitore e il fornitore è importante serve un fornitore che capisca il business e non capisca le funzioni del CRM ovviamente va coinvolto anche l'IT manager perché poi ci sono delle cose tecniche da fare e se non lo coinvolgi è un problema ma non deve essere l'IT manager a gestire un processo che è un processo di business e non di come posso dire e non un processo IT ovviamente tutte le scelte hanno delle conseguenze e scegliere un vendor importante sicuramente da un certo punto di vista facilita ma non è tutto quindi se scegliete Salesforce HubSpot SugarCRM Dynamics sicuramente scegliete un bellissimo prodotto ma non è detto che questo vi porti automaticamente a fare un progetto vincente io personalmente evito aziende di CRM molto piccole evito le start up perché CRM è un progetto che quando va bene comincia a girare in tutti i reparti aziendali come parola e quindi non posso rischiare di avere una roba che poi dopo domani falliscono litigano tre soci perché sono no bisogna avere una società che riesca a supportarci nel tempo e non vorrei mai gli spin off i fork tipo ah questo era un prodotto open source noi l'abbiamo rimodellato siamo in tre in un garage lasciate perdere perché alla fine o pagherete tantissimo di personalizzazione ogni volta e comunque non avrete mai il meglio che il mercato e quei prodotti li possono offrire ora mentre invece guardando dentro l'azienda ogni azienda si sente un po' speciale quindi anche se uno fa chiodi ah no ma noi li facciamo in maniera diversa da tutti gli altri in realtà il CRM è molto interessante perché standardizza i processi cioè se voi ripercorrete i vostri processi malati dentro il CRM avrete dei risultati malati come li avevate prima quindi perché c'è quella funzione nel CRM perché l'hanno messa al posto di toglierla bisogna chiedersi perché l'hanno messa vi faccio un esempio personale tanti anni fa all'inizio della mia carriera pensavo che il campo c'era un campo in quel CRM sul fatturato e sull'affidabilità creditizia e io dissi via via cavare fino a quando un giorno da un cliente invece il cliente lo integrò con una di quelle suite particolari morale della favola sono in azienda e vedo che arriva una mail di una premiata ditta di motociclette adesso non sto mettiamola così e che chiedeva un preventivo chiaramente era talmente il nome blasonato che erano tutti con la bava alla bocca che volevano immediatamente fare preventivo sdraiarsi inginocchiarsi però lì nel contattore c'era un segno rosso allora io mi ricordo che sono andato ho cercato il nome dell'azienda su google e l'ho trovata con gli operai fuori che facevano una vertenza sindacale perché non gli pagavano da mesi lo stipendio ora prima di fare una roba così questi dati sono molto importanti da controllare benissimo questo è un dato che se io avrei rimosso perché siccome non era non eravamo soliti usarlo io l'avrei rimosso quindi è importante sapere che se c'è una casella io mi devo chiedere perché c'è ok ovviamente come vi ho detto prima il marketing del vendore da lasciare stare da prendere come marketing e poi bisogna andare a vedere quali sono i componenti fondamentali del CRM fino a poco tempo fa il CRM era formato da tre moduli sales force automation marketing automation service automation la sales force automation è scusate è quella diciamo quella sezione dove io prendo gli appuntamenti ho la mia agenda so che devo chiamare il cliente ho il mio alert per il compleanno eccetera la parte di marketing automation lo dice la parola stessa la parte service è dove io invece chiamo e ricevo le chiamate dell'assistenza e do assistenza al mio cliente recentemente c'è una nuova tendenza che parla di purchasing automation o di supply automation perché questo perché oggi con la difficoltà di avere fornitori che poi ti fanno la delivery degli ordini che gli fai è un po' una vendita anche questa adesso il mio maestro lato acquisti mi dice sempre che negli acquisti tu vendi il fabbisogno dell'azienda verissimo però è importante sapere che se io ho un fornitore che può fare cento pezzi l'anno e io arrivo e gliene chiedo tre lui ha tre persone deve dire di no quei tre pezzi devono andare da un altro a me e quindi ci deve essere un motivo questa è una vendita gli devo promettere un case study gli devo mandare il vino a natale non so ci sono mille cose da poter dire ma anche questa è una vendita quindi si comincia a pensare al CRM anche per la parte acquisti vediamo un attimo la salesforce automation e andiamo veloci una volta la salesforce automation era composta da due pilastri le aziende e i contatti era un database dentro cui si innestavano tutte le altre cose e quindi più o meno se prendevate un adesso questo è salesforce ma potrei averne messo un altro erano tutti uguali c'era la classica anagrafica clienti contatti eccetera oggi invece siamo passati un pochettino più da contatto verso contratto cioè io inserisco dei contatti e il CRM mi aiuta a tenere il mio focus verso la conversione in un contratto questa è una cosa molto importante perché non è più appena un'agenda ma è uno strumento che tutte le volte che lo apro mi fa stare lì sull'obiettivo che è quello di vendere ovviamente serve anche alla supervisione e controllo di sé e del team perché quando poi non performo io ho piacere di saperlo prima che non quando mi tira le orecchie il capo ha una certa reportistica questa funzione di salesforce automation quindi possiamo creare report generarli noi prendere quelli che già ci sono e ha un diciamo che gestisce tutto il processo di vendita dal contatto iniziale fino alla chiusura della trattativa come lavora in tutto questo il marketing beh il marketing per questo è fondamentale perché scusate sono andato un po' avanti il marketing è fondamentale perché vendite e marketing oggi sono considerate dal cliente una sola entità non perché lui le distingua chiaramente ma perché oggi se il cliente guarda così tanti contenuti online e offline sul brand prima di comprare prima di entrare in contatto con l'azienda il marketing è una parte del percorso di vendita questa è una è una cosa che mi piace raccontare sempre sempre per spiegarvi perché il CRM è importante confrontarsi con quello che c'è già nella diciamo nella nella suite quando vedete un'opportunità che è divisa in tante parti c'è sempre la tentazione dai commerciali di dire ah ma io non ho perso la trattativa il deal è frozen bene non fatelo mai perché un deal o è vinto o è perso se è frozen è perso e poi lo riaprite dopo perché se mettete frozen e cambiate questo parametro dopo cinque mesi avete nessuno perde più una trattativa sono tutti deal frozen ovviamente perché è importante sapere quando si perde una trattativa perché si può migliorare si può migliorare il prodotto eccetera tanti CRM oggigiorno sono fatti solo dal modulo di Salesforce Automation non hanno quindi Marketing Automation integrano altri strumenti che per un certo verso è molto buono come vi dicevo prima commerciale e marketing si fondono da un certo punto di vista insieme per quello che concerne la sensibilità del cliente e quindi è importante che il marketing faccia bene la sua parte per incentivare i commerciali ad usare il CRM cioè se a me è commerciale mi arrivano tanti lead arrivano sul CRM io compilerò volentieri il CRM perché mi aiuta vi do due tip due trucchetti per invogliare i vostri commerciali ad usare il CRM il primo è un sapiente utilizzo di LinkedIn io per esempio lo uso con i video messaggi magari se avete voglia poi ne approfondiamo la cosa un'altra volta qui c'è un piccolo regalino se volete poi andate sul mio sito vedete cosa faccio con LinkedIn c'è una checklist ma soprattutto con i video un video lungo converte molto di più che un video breve un video lungo parlo di un video che è almeno di 45-50 minuti questo nessuno lo capisce i video li caricano tutti su YouTube ma se fossero nelle vostre pagine aziendali renderebbero molto di più quali sono infatti i video che generano più engagement cioè che generano più email da mettere dentro il CRM beh quelli più lunghi ci sono degli strumenti che creano uno YouTube all'interno del vostro sito aziendale tracciano tutti questi dati e vi permettono di catturare lead che poi vanno ad alimentare il CRM in pratica io faccio così anche per me cioè io ho tutta una serie di canali che portano un evento webinar dove io prendo i dati del cliente e li metto nel mio CRM quindi vi dico cose che uso anche per me ovviamente il marketing deve usare la marketing automation visto che hai dati nel CRM e segmentare le liste cosa vuol dire segmentare le liste che quando comunica uno non comunica a tutti la stessa cosa ma se un cliente mi compra quel tipo di prodotto io prediligo mandare a lui le informazioni su quel prodotto tanto per dirle farvi un esempio stupido chiaro che parlare a tutti con lo stesso tono con la stessa email è parlare a nessuno difatti vedete quanti quanti notano le vostre comunicazioni con gli auguri di Buon Natale nessuno chiaramente il marketing usa anche il CRM per tracciare il ROI il ritorno di investimento di tante campagne come le fiere capisce quali sono quelle da fare quelle che non hanno portato niente eccetera infine la service automation per service automation non è solo prendere nota delle chiamate dei clienti che si lamentano per qualcosa ma è anche prevenirle immaginatevi un film piuttosto così il cliente è sul vostro sito è nella pagina FAQ perché ha un problema il sistema se ne accorge manda una notifica all'operatore che lo chiama pensate che effetto wow ecco questo è il CRM per la service automation quindi non è prego attendere prego attendere ho chiamato il call center ma è predittiva diciamo volevo farvi vedere un altro paio di cose interessanti è che chiaramente i problemi del CRM non sono solo rose e fiori quindi quando chiami l'assistenza la chiami che sei sempre arrabbiato ma sul CRM puoi pianificare le manutenzioni ricorrenti le manutenzioni ordinarie puoi mandare un'offerta di ricambi quando sai che li sta per finire eccetera e quindi puoi fare della vendita diciamo più avanti puoi farti avanti con le vendite perché il CRM fallisce arriviamo alla parte più densa perché il CRM fallisce e fallisce spesso beh perché come tutti i software corporate fallisce quasi sempre per user adoption cioè non viene usato e poi non viene usato bene perché se io non faccio più formazione l'utente si dimentica poi cambia lavoro ne arriva uno nuovo io non ho preparato la formazione per lui e lui comincia e lo usa male quindi normalmente in sei anni di azienda molte persone rischiano di non usare più volentieri lo strumento allora andiamo un po' avanti che se no non stiamo nei tempi vediamo quali sono i punti critici del CRM allora il CRM non è un progetto che si chiude in poco tempo come vi ho detto prima non è cotto e mangiato lo facciamo nell'estate no perché non va avanti non è vero che davanti alle obiezioni bisogna dire devi farlo e basta ci sono delle obiezioni che vengono sempre fuori io non sono pagato per inserire i dati e questo c'è da capire bene l'obiezione del commerciale ci sono delle tecniche per aiutare il commerciale a capire quanto è utile per lui il CRM il CRM non è una moda non lo fate perché lo fa il vostro amico di Confindustria ma fatelo perché serve alla vostra azienda il CRM inoltre non è un software come abbiamo detto il software magari è la parte che vedi che paghi ma sotto ci sono dei costi e delle attività da fare che non è facile notare ogni volta che noi lasciamo delle obiezioni senza diciamo senza una risposta noi creiamo una valanga come si fa a gestire queste obiezioni arriviamo all'ultima parte che è un po' scontata ma è davvero così purtroppo è brutalmente semplice come ve lo sto per dire si investe nelle persone le persone giuste quindi non quello che non sapevo bene cosa fargli fare allora gli ho fatto fare il CRM si investe nella responsabilità delle persone le persone devono sapere qual è la cosa che gli chiede di fare e cosa vi aspettate che loro portino indietro come delivery del loro lavoro e infine i processi i processi devono essere mappati chiaramente perché se no quando si va a mettere poi in piedi il CRM si va in confusione la confusione normalmente crea liti liti terribili da sanare in azienda io come sempre non lo so ma mi piace non solo lasciare le slide ma lasciare qualche cosa in più io ho fatto una playlist sul tema CRM potete andarci cercando il mio nome e cognome su YouTube oppure scannerizzando quel QR code dove vi trovate tutta una serie di approfondimenti a tutte le cose che ho detto io ho fatto di corsissima per restare nel tempo spero che spero che tutto sia a posto e che i nostri i nostri relatori i nostri organizzatori non siano arrabbiati ci ho messo due minuti concretissimo puntualissimo quindi tutte cose che finiscono in unissimo e tendenzialmente positive quindi non ti preoccupare io partiamo con le domande se qualcuno volesse farne dopo appunto come dicevamo scriverne altri in chat Michele lascia a te la parola e così rompi il ghiaccio sì allora io ho sempre un 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 punto focale rispetto a tutte le attività digitale che è la persona hai accennato dell'importanza di del coinvolgimento di tutti gli attori all'interno dell'azienda che possono contribuire nella nella buona riuscita del progetto hai qualche consiglio su diciamo il il punto iniziale per per riuscire a mettere insieme il team che che sviluppi il progetto e quanto mi metto dalla parte di chi eroga servizi di sviluppo software o comunque di consulenza quanto l'azienda fornitrice diciamo dalla parte software può essere determinante nell'aiutare l'azienda nel processo di realizzazione allora la persona è al centro del crm perché il crm gestisce un rapporto tra due persone il cliente e il fornitore e il fornitore non è mai la vostra ragione sociale o l'insegna fuori dalla fabbrica ma è sempre una persona quindi anche se io ho un cliente in carne ed ossa parlo sempre con lui attraverso un mio dipendente una persona una persona vera quindi le persone sono importanti perché la relazione è solo tra le persone gli oggetti le ragioni sociali non hanno relazione quindi è importante andare a costruire bene quel team e quel team non può essere fatto da persone che non sono interessate o che hanno altro da fare o avevano tanto tempo libero perché sono scarse e quindi vabbè lui è uno scarsone non sappiamo cosa fargli fare gli diamo il crm no in realtà deve deve essere affidato a persone che hanno a cuore l'obiettivo che è quello di vendere di più di essere più efficienti di curare meglio la relazione con il cliente e tendenzialmente con questo parametro si fanno tutte le scelte come vi dicevo prima però il problema principale del crm è un problema di leadership aziendale se la proprietà se chi comanda mettiamola brutalmente non è coinvolto e per primo non gliene frega niente le persone faranno lo stesso proprio per osmosi prenderanno la stessa brutta abitudine io ricordo sempre c'erano marito e moglie proprietari dell'azienda io ho parlato col marito abbiamo fatto tutto il progetto poi al kick off si presenta anche la moglie e inizia così bene ragazzi sapete che abbiamo fatto questo progetto perché a me se qualcuno di voi vuole licenziarsi si deve licenziare se ne deve andare e così noi abbiamo tutti i suoi dati e chiaramente nessuno ha mai usato il crm l'hanno tolto dopo un anno e mezzo non è così che si fa non è così che si fa cioè o sei convinto o meglio che non ci si metta che l'azienda non incominci neanche un percorso di questo tipo se non c'è la chiara idea di fare del bene alla relazione tra noi e il nostro cliente se non c'è questa diciamo questo spirito di servizio usate un file excel scaricatevi qualcosa dal web gratis tanto è uguale non so se ho risposto alla tua domanda però ecco chi è motivato al bene dell'azienda grazie è possibile Giorgio in qualche modo misurare il ritorno sull'investimento rispetto all'adozione di un CRM in azienda cioè hai già esperienze in cui si è riusciti ma allora quando incontro un'azienda che non è il CRM l'unico parametro per misurare la crescita di un'azienda è come è andato il margine rispetto all'anno prima dico margine perché normalmente nessuno vive di fatturato ma tutti viviamo il margine ecco quando quando si apre un CRM e si usa davvero ci si comincia a accorgere delle inefficienze soprattutto si comincia a accorgere perché del perché perdiamo le trattative ve lo dico perché molte volte nessuno il commerciale è un animale da competizione non vuole mai perdere per natura se no non sarebbe un buon commerciale e quindi tende a dire che è stato lui bravissimo è il cliente che è uno stronzo non ha comprato fondamentalmente quando comincia ad avere un report che mi dice non ha comprato perché manca questa funzione non ha comprato perché manca questa funzione non ha comprato perché manca questa funzione a un certo punto uno dice beh abbiamo già perso tre trattative la vogliamo fare questa funzione o no e già lì cominci a guadagnare in competitività in più io ve lo dico sinceramente alzi la mano chi si ricorda tutto io sono tendenzialmente una buona memoria ma io faccio fatica a ricordarmi compleanni a stare sul pezzo ad avere una notifica quando devo chiamare un cliente a fare a ragionare su delle cose oggettive e non soggettive perché quasi tutte le volte succede che quando devo fare la ramanzina 1 la faccio perché ho un problema di pancia che è successo lì nel momento invece con un CRM io riesco ad avere dei dati oggettivi e posso anche giudicare le mie mancanze e migliorare questi sono i due dati che poi fanno vedere alla fine un miglioramento in più uno si misura come fai a capire se stai andando bene se non sai quante offerte hai fatto non sai qual è il cliente che ti ha portato via più tempo non sai quante versioni della offerta hai fatto per un cliente cioè tutte queste cose quante volte ti ha chiamato all'assistenza magari hai venduto con pochissimo margine questo chiama sempre l'assistenza le commesse sono in perdita questo secondo me è molto importante ed è uno dei tanti fattori poi come misurare bisogna prendere la singola azienda e dirgli qual è il motivo per cui lo metti su per fare questo bene vediamo di misurare i risultati che porta in questo parametro c'è una domanda dal nostro pubblico che chiede un CRM potrebbe aiutarmi anche in un'ottica di ufficio paperless facendo transitare archivare su CRM documenti che oggi sono cartacei come fatture ordini eccetera eccetera alt qui stiamo parlando di tante cose allora un CRM è anche alcuni CRM hanno anche la funzione di repository documentale però quando mi dicono paperless archiviazione sostitutiva le fatture quelle sono cose che fa il gestionale ok non c'è da confondere gestionale con CRM perché sono due prodotti diversi poi a volte si integrano perché è più facile e può essere utile che si integrino che ci sia uno scambio dati ma sono cose differenti sono cose differenti ok mi chiede altre domande sì ti volevo fare una domanda ovviamente ci sono aziende che hanno un mercato B2B e aziende che hanno un mercato B2C differenze o attenzioni diverse rispetto alle due situazioni beh allora tecnicamente nell'anagrafica clienti se li vogliamo guardare a bocce ferme sono molto simili il problema sta tutto nel tempo del lead time di vendita sicuramente se hai un B2B ci sono dei tempi più lenti e soprattutto tendenzialmente il cliente che ti contatta con cui arrivi a parlare ha una vera intenzione di comprare nel lato B2C tu spendi un sacco per acquisire quel cliente perché oggi i costi di acquisizione dei quei clienti sono altissimi ti faccio un esempio se tu vendi magliette sono decine di migliaia le aziende che fanno pubblicità online sulle magliette ma se tu vendi pompe al carbonio prematurato che adesso mi sto inventando probabilmente tu il cliente lo accusisci perché lui fa una ricerca su Google e quindi ti è costato molto meno prova a fare pubblicità online i prezzi della pubblicità online stanno decollando ormai da diversi anni quindi quando tu acquisisci un cliente facciamo il caso di un B2C classico un e-commerce ti è costato l'anima dei quattrini puoi farlo rendere quel cliente gli vorrai mandare offerte spersonalizzate vorrai non mollare mai ricontattandolo vorrai tenerlo battuto perché quello ormai l'hai pagato tantissimo ecco che